In occasione invece della 69esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, anche quest'anno si è tenuto all'attuale conferimento del premio Robert Bresson, segnato quest'anno dalla fondazione ente dello spettacolo al cineasta britannico Ken Loach, in qualità di autore, di opere attente al progresso civile e alla solidarietà umana che illustrano le condizioni di vita di categorie cui spesso è negata la dignità di lavoratori e di uomini. A consegnare il premio, il Patriarca Civescovo di Venezia, Sua Eccellenza, Monsignor Francesco Moraglia